Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti. Ci siamo lasciati ieri sera con l'Inferno, con tutti i collegamenti da San Siro per Milan-Paris-Saint-Germain. Da quel momento in poi il nostro avvicinamento alla sfida Champions, caldissima, importantissima di questa sera, è stato particolarmente tosto. Io però la prima cosa che devo fare è associarmi totalmente al tweet del Milan di condanna di ogni tipo di violenza. Milano è Milano, è una grande città, Parigi è Parigi, le cose che sono successe è a sua volta una grandissima città, le cose che sono successe ieri sui Navigli non fanno onore allo sport e non fanno onore alla Champions League e non fanno onore alla città di Milano. Per cui il tweet del Milan è stato chiaro, diretto e robusto ed è la cosa più importante. Prima i valori, prima tutto quello che di nobile e di giusto deve circondare un grande evento calcistico, poi tutto il resto. Di tutto il resto c'è la partita, perché la partita è sempre fondamentale. La partita è un patrimonio che può acuire o migliorare in maniera sensibile scenari, situazioni, umori e atmosfere. E noi stiamo vivendo molto di umori e di atmosfere in questo periodo. Se io dovessi chiacchierare davanti alla macchina del caffè con ciascuno di voi vi direi troppo casino, troppo casino. È inutile parlare e discutere adesso, troppo casino. Ci sono dei momenti in cui è importantissimo nel calcio abbassare l'audio. Non naturalmente sia ben chiaro silenziare le notizie o silenziare i fatti, però abbassare l'audio significa produrre nel suo complesso casino attorno alla squadra. E la produzione del casino è un tema che riguarda tutto il mondo Milan, non una componente in particolare. E quindi è molto importante, in queste ultime ore sono convinto che la squadra lo sia già, è molto importante, fondamentale concentrarsi su quello che ci aspetta stasera. Ossia è una partita durissima con il Paris Saint Germain che è arrivato sereno, sono arrivati Luis Enrique, ho percepito Luis Enrique, poi i collegamenti di ieri a Minantivi all'Inferno. I volti di Mbappé, il lavoro della squadra, loro sono sereni della loro forza e consapevoli della loro forza. Quindi non sono più quella squadra di plastica che io stesso avevo spesso criticato negli anni scorsi. Quindi il livello della difficoltà questa sera è altissimo. Per quanto riguarda Zlatan Ibrahimović sono contento di due cose, di non aver partecipato al Toto Cariche di ieri sera, francamente. Lo spettacolo del Toto Cariche sui social non è stato edificante. Sono contento di non avervi partecipato e sono contento di avervi reso un servizio. In questi giorni vi ho sempre detto che non sarebbe arrivato un tutor di Pioli, ma sarebbe arrivato un rafforzamento della struttura. Poi organigramma, non organigramma, riferimento diretto e collaborazione con la proprietà, non riferimento diretto e non collaborazione con la proprietà. Non entro nel merito, non so, ma che non sarebbe arrivato un tutor di Pioli, ma un rafforzamento di personalità, di mentalità, di grinta, di determinazione nella struttura. Sì, e questo mi sembra che sia quello che potrebbe accadere, che sta per accadere con i tempi che naturalmente i protagonisti riterranno giusti e opportuni. E quindi anche questo è un servizio. Naturalmente non serve a nulla aggiungervi che in questo momento non c'è nulla di ufficiale, ma che se dovesse essere ufficiale quello di cui a livello non ufficiale tutti parlano, Zlatan Ibrahimovic ha sempre arricchito il Milan. Lo ha arricchito la prima volta, lo ha arricchito la seconda e sono convinto che lo arricchirebbe anche la terza. E quindi da questo punto di vista non ci sono dubbi, ma consentitemi di attendere senza particolari commenti l'ufficialità, la presa in carico e lo sviluppo delle cose. La foto che hanno fatto insieme Gerry Cardinale e Giorgio Furlani questa mattina sorridenti a colazione vale più di mille parole, vale più di mille congetture. Ho letto un po' di fregnacce non sui media sportivi, non sui giornali sportivi, non fra i tifosi del Milan sui social, ma all'esterno. E quindi con tempi e formule sbagliate, con cifre sbagliate, quindi non fatevi fuorviare dalle cifre sbagliate. State ai fatti e i fatti sono quelli che avete visto questa mattina con Gerry Cardinale e Giorgio Furlani e quelli che dovreste vedere, dovremmo vedere in un futuro non lontanissimo riguardanti Zlatan Ibrahimovic. Però, ripeto, io avevo escluso e sono contento di avervi dato un servizio la parola tutor e infatti tutti escludono dagli scenari oggi la parola tutor. E quindi andiamo avanti da questo punto di vista. Poi c'è la partita, anche ieri mi avete scritto molti messaggi, molto critici. Vi sento molto critici e molto gravi nella critica. È una critica che evidentemente non sottovaluto e non posso sottovalutare. È una critica forte. Qualcuno di voi mi ha scritto, mi ha scritto, eh ma parli, parli, parli per minuti, 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 ma non dici nulla. È probabile, è probabile. Io cerco sempre di dire le mie cose, quando è possibile, in maniera piatta e diretta. Quando è utile per il Milan cerco di tenerle fra le righe, oppure di farvi vedere per quel pochissimo che può valere la mia presenza senza darvi la sensazione di un vuoto. Ma, ripeto, se qualcuno di voi ha avuto questa percezione nei miei video di ieri, ha avuto una percezione, se vogliamo, corretta. Perché abbassare l'audio significa anche fare 0 a 0 in qualche video. Perché se questo è utile per l'atmosfera attorno alla squadra, attorno al Milan, attorno alla partita, io lo faccio, è come l'ho sempre fatto e come credo sia giusto fare, anche in una sede non ufficiale come questa. Per il resto, sta nascendo una formazione con un centrocampo composto dall'Oftus Musa e Reinders, con la nostra difesa titolare, con Mike in porta e con il nostro attacco titolare. Quindi, è chiaro che l'Oftus... Pulisic viene da una brevissima decenza, perché ha saltato quattro allenamenti, quindi Pulisic dovremmo ritrovarlo nella stessa forma in cui l'abbiamo visto, compatibilmente con l'avversario nel primo tempo di Napoli, mentre l'Oftus viene da una decenza un po' più lunga, però ha messo quei minuti nelle gambe contro l'Udinese, anche se in una partita improponibile come quella che abbiamo fatto o non fatto sabato, e quindi poi ha fatto allenamenti pieni, allenamenti interi, poi la personalità, la notte di San Siro, il fascino della Champions, l'urlo dei tifosi, speriamo faccia il resto per ridarci la forza e l'energia di l'Oftus, che tanto c'è mancata in questo periodo. E per il resto, tutti allo stadio, fate quel che potete per sostenere la squadra, che è tantissimo, che è importantissimo in una sfida durissima. Ci vediamo e ci entiamo dopo la partita.